La stanchezza c'è, come è normale che sia, perché comunque il ritiro è una delle parti fondamentali della stagione, però si lavora bene, qua si sta un pochino più freschi, quindi dai, siamo carichi. No, va bene, dai, hanno preso tutti i giocatori forti, che conosciamo perché abbiamo giocato contro l'anno scorso, i vari Coda, Letizia, Belek. Andrea Costa io lo conosco perché ci ho giocato in nazionale insieme quando eravamo giovani, under 18-19, quindi giocatori comunque d'esperienza per la Serie A, giocatori forti che possono darci sicuramente una grossa mano. No, il mister è sempre con le solite motivazioni, è uno che sa lavorare bene, sa caricarti al punto giusto, quindi sicuramente faremo un gran campionato. Come ho detto prima, questa parte di stagione è una delle parti fondamentali, quindi diamo il massimo ora per trovarci poi tutto il lavoro dopo.